Mr. Bencardino, tre punti pesantissimi per l'Imperia su un campo difficile e con un po' di sofferenza nel finale. Sì, dai, mi sono arrabbiato un po' tra il primo e il secondo tempo con i ragazzi perché era una partita che dovevamo chiudere nel primo tempo, perché ci stavano i due gol di scarto. Questo non è avvenuto, è logico che loro, bisogna dargli atto che hanno lottato davvero col cuore, hanno fatto il possibile per mettere in piedi questa partita. Tra un po' ci riescono con un rigore sicuramente errore del nostro portiere, però penso che non ci sia nulla da dire sulla vittoria dell'Imperia. Questa è una vittoria che può dare un'ulteriore spinta nel corso di questo campionato? Ma ci può dare un'ulteriore spinta solo perché, come abbiamo detto dall'inizio, non c'è una squadra all'epre, è una squadra che può fare il vuoto. Forse in questo momento il vado potrebbe sembrarlo, però noi proviamo a stare nel gruppo, nelle prime, in modo che nel ritorno poi cambiano tanti valori, la preparazione, il calcio mercato da dicembre, recuperi di giocatori importanti. Perciò, torno a ripetere, i campionati si vincono nel ritorno. Quindi non si può tornare ad avere un po' di rammarico per quanto è successo domenica scorsa? No, no, rammarico no perché, torno a ripetere, non è stata la prestazione di oggi, nonostante non meritassimo di perdere, questo è scontato, però oggi c'era la voglia di arrivare primi sulla palla, di fare qualcosa in più, che va oltre lo schema, che va oltre... Ci vuole, come in tutte le cose, ci vuole cuore, ci vuole determinazione, quella cosa che domenica secondo me col Busalla non c'è stata.